Rinnovato il direttivo del Parco Naturale di Portoconte, il nuovo presidente eletto è Raimondo Tilocca, mentre i relativi membri del consiglio direttivo sono Adriano Grossi e Linna Bardino, dimostrando una parità di genere che invece mancava nella precedente legislatura. È stata espressa un'ampia soddisfazione da parte dei capi gruppo di maggioranza nel corso del consiglio comunale, non sono però mancate le polemiche a causa dell'assenza per problemi di salute dell'ex presidente Scala, che è stato sostituito da Pier Giacomo Canu, componente di missionario da mesi del consiglio d'amministrazione. Un'elezione che ha creato non pochi dissidi, tanto che alcuni membri dell'assemblea comunale si sono ritirati durante la riunione, già in apertura quando si è iniziata la discussione sul rinnovo del presidente del Parco Naturale di Portoconte del consiglio d'amministrazione.